Bella a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo video. Io sono GioDiProGamerBros e oggi siamo su un gioco per Xbox Live. Sto parlando di... Vediamo se la riconoscete, questo trailer. Facciamo questa intro. Vi dico solo che è un gioco molto famoso di Xbox. L'IA dell'Infinity. Analizzeremo le battaglie storiche per migliorare le tue abilità tattiche per il futuro. Inoltre è un passatempo molto divertente per ingannare il tempo. Allora procediamo. Siamo su Halo. Siamo praticamente... Ragazzi siamo su Halo. Siamo praticamente... Siamo su Halo. Halo Asphalt. Asphalt. Ragazzi la versione che vi sto facendo è la versione... E' la versione Elite. Non è la versione... Quella... Quella proprio... Quella vera e propria. E' la versione Elite. Tanto qua non so che cazzo si sta offendendo. Quindi praticamente questa è la versione gratuita. Non è la versione proprio ufficiale. Attimo ragazzi. I comandi ci sono impallati. Torno subito. Risolvo il problema e... Riprendiamo. Ok ragazzi ho risolto il problema. Era il joystick che non stava andando bene. Ok bene. Allora. Prima di iniziare la partita. Devi fare il tutorial. Direi. Così almeno vi do... Ritechiare su questo gioco. Direi. Perché se no. Se facciamo direttamente la partita. La finiremo in un attimo. E quindi. Il video verrebbe troppo corto. Quindi facciamo un po' tutto. Dovete a sinistra per muoversi. Vabbè. Qua dobbiamo farci colpire come degli idioti. Dovete arrivare al 50% di energia. Ok. Vi attivo raggiunto. Ora dobbiamo scappare. Poi iniziamo a sparare. Allora qua attacchi. E' così ecco. Ok. Sì. 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 Ragazzi io questa parte Ancora sono riuscito a farla Perché mi dice Distrugge i versetti del destra Con la pistola al plasma Ma non li distrugge Non so se devo minare due o tre colpi No vabbè Senti ragazzi per evitare di perdere tempo Saltiamo il tutorial Non lo completo Perché se no ci impiegherei troppo Ci impiegherei Andiamo a giocare E' proprio il gioco Caricamento archivio della battaglia di Dreteus 5 Il conflitto iniziò quando una fazione Covenant Decise di ignorare la tregua del 2552 Attaccando le forze CST Al termine della battaglia Beh il conflitto non finì bene per nessuno degli schieramenti in gioco All'inizio dell'attacco Gli Spartan Davis e Palmer Erano entrambi in servizio sulla luna di Dreteus G Vediamo come riuscirono a respingere le prime ondate dell'assalto Ok Iniziamo Veramente potremmo affrontare solo la prima missione Questa Questa è un'accessione buona Ora ragazzi devo cambiare l'arma Se no Mi ammazzano Faccio cambio con questa Purtroppi ragazzi alla riflessione del plasma Non posso rinunciare Che è potentissima Uh questo è ancora più potente Missione compiuta ragazzi Abbiamo finito Ce l'abbiamo fatta Peccato che questa non era Il vero del gioco ufficiale Era solo diciamo una peta Però Dai Ci possiamo accontentare Vedrò se riuscirò Sempre se riuscirò a portarvi la serie Proprio quella Quella completa Questo gioco Se la volete Se la volete Tenterò di portarvela Tenterò Ragazzi Comunque Per adesso Che vi devo dire Aspettate un secondo Se il video vi è piaciuto Lasciatemi un commento Mi piace Lasciatemi un commento Mi piace Iscrivetevi al canale Iscrivetevi al canale Commentate Condividete E noi Ci rivediamo Al prossimo video Scrivetevi al canale Grazie.